E' tempo per un nuovo triunvirato. Mauritius, Rolus, venite qui. Dobbiamo scegliere il nuovo gladiatore per completare l'alleanza. Sembrerebbero esserci numerosi cambiamenti nei vari imperi quest'anno. Vediamo i candidati. Rolus, questi ci serviranno in un secondo momento. A chi è stata la lista dei Brawlers? Perdonatemi. Forza, leggi i nomi. Vedo due guerrieri prodigi in lista. Portatemi il primo. Mister... Si, cos'è questo caos? Bene, dove eravamo? Mister T, avanti! Il prossimo sarà meglio. Tranquilos. Vediamo. Lucanus Ferrum! Ave Marus! Mauritius! Con me al vostro fianco e la proposta di legge Ricum Workam governeremo su tutta l'Europa. Ci estenderemo su tutto il mondo. Insieme saremo il trombiurato più potente composto da soli guerrieri dell'impero. Niente, praticamente facciamo così. È come quando facciamo il rank 30. Io gioco tranquillo su una lane, voi fate un doppio mid, no? E andiamo così fino al mondiale, tranquillamente. Com'è possibile che siano solo questi i candidati? Perdonadmi, Todavía mi queda un guerrero muy especial. Viene desde España. Chi è? Lo chiamano l'Hispanico. Presentati! Mi chiamo Ruben Icaos Esposito. Antiguo comandante del ejército español de classe e exgeneral della legione DSK. Leal servidor del verdadero imperio de Replitotem. Veterano de batallas dolorosas. Compañero de guerreros retirados. Tendrei mi victoria en estas finales mundiales. Ya sia in questa vita o in la prossima. Io rife del Taha. Lo juro. Io rife del Taha. Io rife del Taha. Grazie.